Musica La cara Maria, io so che tu segui molto la moda, volevo chiederti, secondo te qual è la donna ideale che può indossare perfettamente lo stile di Mario Orfei? Allora, lo stile di Mario Orfei è adatto per un tipo di donna moderna ed attuale, quindi una donna che deve essere elegante, però deve essere anche attuale, perché lui è sempre molto rivoluzionario, quindi io ho indossato dei suoi capi e mi sono resa conto che cura i particolari in maniera anche un po' trasgressiva, quindi mi piace per questo motivo, perché mi aiuta anche un po' a cambiare il look, perché io a volte tendenzialmente sono classica e romantica, invece i suoi abiti hanno questo tipo di caratteristica. Senti, invece il valore della moda per Maria Monze, qual è? Allora, intanto per me la moda è un settore che rappresenta uno dei miei tanti amori, infatti io e mia figlia ci dedichiamo a tutto questo, ci divertiamo a realizzare anche degli abiti, è un po' una delle nostre passioni, quindi viva la moda! Viva la moda! Senti Maria, adesso per un attimo passiamo a un altro argomento e volevo chiederti personalmente, noi ti abbiamo seguito molto al Grande Fratello, hai avuto un grande successo e volevo chiederti adesso i tuoi progetti futuri, perché comunque insomma veramente sei stata molto apprezzata, hai avuto veramente una bella carriera. Sì, io adesso ho un libro in uscita, sono sempre nel salotto di pomeriggio 5, quindi insieme a Barbara D'Urso, ci sono degli argomenti che non mi posso anticipare che man mano... Ok, va bene, quello che puoi dire! Sì! Ok, dai, allora fermiamoci qua e ringraziamo Maria Monze, grazie! Grazie, un bacione! Un apprezzamento e un pensiero allo stilista Mario Orfei? Allora, Mario Orfei è uno stilista molto pragmatico, lo adoro e poi quest'anno c'è questo colore che piace a tutti, agli uomini e alle donne che è l'oro e quindi prevale anche in occasione delle festività natalizie e quindi siamo tutti qua per verificare ed ammirare, almeno per me, il mio prezioso stilista. Sono Mario Orfei! Direttamente dalla New York Fashion Weekend, stasera Mario ha deciso di regalarci in anteprima la collezione. Grazie a tutti!